Mentre c'era chi truffava allo Stato 49 milioni di euro delle tue tasse, in 10 anni il Movimento 5 Stelle ha restituito e rinunciato a 106 milioni di euro, finanziando 631 piccole imprese Emiliano Romagnole, una palestra a Mirandola in provincia di Modena e le nostre scuole per progetti ecologici. Il 26 gennaio scegli Simone Benini presidente, barra il simbolo del Movimento 5 Stelle, la scelta utile che fa la differenza.